Alle prime luci dell'alba i carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a 11 provvedimenti cautelari, 6 in carcere, 2 agli arresti domiciliari e 3 obblighi di dimora per le ipotesi di reato, di furto aggravato, riciclaggio e spaccio di sostanze superfacenti emessi dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo sulla base delle risultanze investigative emersa nel corso di un'indagine diretta dalla locale procura della Repubblica. L'attività investigativa condotta dai militari della compagnia di Palermo San Lorenzo tra marzo e agosto 2019 ha consentito di acquisire un grave quadro indiziario sostanzialmente accolto nel provvedimento cautelare a carico dei membri di due gruppi criminali attivi sia nel capoluogo che nella provincia, ritenuti dediti alla commissione di furti in danno di esercizi commerciali e distributori di benzina. Nel corso dell'attività sono stati documentati due furti consumati in danno di due supermercati di Palermo durante i quali i malviventi hanno portato via le cassaforti, riuscendo a sottrarre complessivamente 70.000 euro oltre a due tentativi di furto presso un impianto sportivo e un distributore di carburanti. Nel corso dell'indagine erano già state arrestate in flagranza di reato 5 persone per il tentato furto perpetrato in danno di un supermercato di via Messina Marine. Secondo l'ipotesi accusatoria, alcune degli indagati avrebbero sopperito le difficoltà scaturiti dai descritti arresti in flagranza di reato avviando un'attività di spaccio di cocaina, ascisce e marijuana svolta in maniera itinerante nelle quartiere Sperone. Secondo quanto approfondito dagli inquirenti, sarebbero emerse anche due cessioni di ascisce in favore di un consumatore detenuto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani, che avrebbe ordinato la merce attraverso l'uso di un telefono cellulare di piccolissime dimensioni e impartito disposizioni per l'occultamento della sostanza da inviare. L'indagine ha consentito di attivare tempestivamente la polizia penitenziaria che è riuscita a intercettare e a sequestrare lo stupefacente.